eccomi ragazzi sono io sono il vostro amico youtuber gabri costa in questo gioco tartaruga ninja 3 the manattan project noi dobbiamo andare avanti in questo livello ricordatevi che abbiamo sconfitto mother mauser colore blu ma noi dobbiamo scoprire chi è il vero boss di questo livello ecco il vero boss da affrontare in questo livello guardate l'acqua si sta alzando affronteremo un coccodrillo lea fered non sarà facile batterlo spara con la sua arma però ed ha anche colpi di coda che strano essendo un coccodrillo finora abbiamo sconfitto tanti boss ma lea fered è il più difficile in assoluto ricordatevi che non c'è ancora traccia di april o'neill non l'abbiamo ancora trovata non c'è ancora dai che voglio essere vicino alla vittoria sconfitto l'Eaterhead e guardate che succede si abbassa l'acqua bene, anche questo quinto livello è completato è terminato vi saluto, iscrivetevi al canale mettete un mi piace grazie a tutti